Civil Week 2024 ci troviamo nella biblioteca comunale Alessandro Manzoni di Pioltello in compagnia di Marta Gerli, Assessora alle politiche giovanili. Cosa avete organizzato per questa Civil Week in questa biblioteca? Allora, in questa biblioteca abbiamo organizzato una mostra fotografica di Robertino Radovics che si è recato in India e ha fatto questo reportage fotografico sulle condizioni di lavoro nell'ambito dell'industria metallurgica e contemporaneamente accompagnato e come introduzione corollario a questa mostra abbiamo invitato un legale, un avvocato giusolavorista del Foro di Milano che farà un approfondimento sulle condizioni di lavoro naturalmente in Italia. È la prima volta che partecipate alla Civil Week? Abbiamo partecipato anche l'anno scorso, sempre con l'evento Career Day, quinta edizione. Quest'anno partecipiamo altrettanto con l'evento Career Day che si è tenuto questa mattina ed è arrivato alla sua sesta edizione. Allora, in bocca al lupo e buona Civil Week! Grazie molte, anche a voi!